Sta per iniziare a Pesaro la festa della musica in occasione del solstizio d'estate che cade nel giorno del 21 giugno ma che vedrà la manifestazione prolungarsi fino al 24. Per l'occasione di Pesaro 2024 la manifestazione internazionale proporrà una grande varietà di iniziative tra queste il progetto dal tramonto all'alba che rientra nel dossier della Capitale Italiana della Cultura. Pesaro non poteva mancare a questo appuntamento della festa della musica, non manca già da molti anni, partecipa ormai da tanti sette anni mi sembra. Pesaro è l'elemento fondamentale per la musica e per la cultura musicale, quest'anno siamo riusciti a gestire e progettare una festa della musica molto elaborata, il Comune si è impegnato moltissimo in queste tre giorni e soprattutto siamo riusciti a far suonare tantissimi giovani e musiche anche di un certo tipo legate anche alla cultura musicale del posto. Il programma è molto ricco, vivrà di diversi momenti, tra cui ad esempio il concerto in Piazza del Popolo che legha il Conservatorio Rossini e Mostra il nuovo cinema come da tanto tempo, con l'omaggio al centenario di Mancini, ma anche tanti altri momenti, concerti all'alba, il contributo delle band coreane che stanno venendo qua per la Korean Week, ma in realtà per partecipare anche alla festa della musica, con il Via Trio che farà anche dei concerti all'alba, al tramonto. Ci sarà un progetto specifico, un progetto di dossier all'Oasi su San Bartolo, che ho finalmente da segnalare è la conclusione nella serata di domenica in Piazza del Popolo con un triplice appuntamento straordinario, nel pomeriggio 400 elementi delle bande di tutta la provincia che si alterneranno e si esibiranno in Piazza del Popolo per uno spettacolo unico, a seguire alle 21 il concerto del Coro dei Maestri, un coro venuto appositamente da Seoul, di 45 cantanti, 45 solisti che si uniscono per questo tributo alla musica italiana e alla musica coreana, e chiudere poi con un concerto invece che va sulle note del cantautorato e del pop italiano per chiudere così con i nostri classici da Piazza del Popolo. Quindi in altri giorni tutto ingresso libero, tutto ingresso gratuito, straordinario, a cui invitiamo naturalmente pesaresi, vissettatori e turisti a partecipare. Grazie a tutti.